ok l'esercito gallico si è spostato quindi non è più lì è entrato un nuovo membro di la famiglia a 16 anni buono buono va bene va bene buongiorno questo giovane ragazzo lo lascerei un attimo qui lasciamo un attimo lì e allora vediamo un po' le casse stanno diminuendo perfetto no perfetto un cavolo però andiamo avanti reclutamento a posto e celebrazione e sto sposato grande 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 viva gli sposi e andiamo a bloccare questo porto maledetto e a quanto pare devo dichiarare guerra i greci abbiamo dichiarato guerra alla fazione greca appunto però non dovrebbe nemmeno essere un mio problema dovrebbe essere un problema dei bruti però va bene va bene va bene allora lui lo farei andare qua giusto un attimo così per vedere ok quindi 0 0 reclutamenti però rimaniamo lì che è meglio come ti preparo per il mio basket io questo qua lo manderei più più verso di là perché di qua è completamente sguarnita poi adesso hanno finito di costruire pure le cose qua quindi possiamo costruire anche altro come le strade per l'appunto le strade che vanno benissimo anche questo questo voglio però di fare i fari prima il porta e poi le strade e ovviamente qua vi faccio un'altra unità di astati giusto per scopo qua apposto qua qua va bene andiamo avanti perfetto dobbiamo prendere l'album marius narbo marius ok narbo marius dove che sta non è vicinissima però questo alla fine farebbe scatenare una guerra contro i galli che non è mai una bella cosa intanto il giovane lo facciamo andare di là direi che va bene va bene lì qua c'abbiamo un sicario entrare in città stare là fuori e allora sono andato sono andato per ti prego attenzione sulla tua fazione per il off grazie grazie ok sono riusciti a prenderla e quindi ciao a posto a posto teoricamente io potrei anche eh sì però quanto quanto c'è ah vabbè poco vabbè intanto iniziamo a far imbarcare l'esercito iniziamo a far imbarcare l'esercito e iniziamo la traversata e quindi io direi che il giovane potrebbe andare verso il nord cosa è che facciamo questo ah vabbè se già sta a posto aveva finito di costruire quella roba direi di costruire delle mura e di qua a posto penso c'è altro da fare eh sì ne recluterei un'altra giusto come scrupolo attento ne mandiamo uno di qua sto per iniziare a a fare un esercito di zona e nulla passiamo il turno e direi che ci possiamo fermare qua con questo video tanto sono veloci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.